Pare tutto pronto o quasi. Sulla griglia di partenza alla vigilia del 3 giugno si trovano tutti i governatori di regione e non ultimi i primi cittadini, con loro margine di discrezionalità circa i provvedimenti da assumere, eventualmente nella direzione del benessere per la propria comunità alla luce delle riaperture dei confini regionali. Immancabile il commento del presidente Emiliano che sottolinea l'impegno pugliese nel contenimento della pandemia, partito concretamente già lo scorso 8 marzo. Abbiamo fatto un lavoro di filtraggio e di indagine epidemiologica molto intense, quindi ci siamo allenati nel trasferimento dalla Lombardia alla Puglia. La strada tra Milano e Bari è essenziale per la tenuta economica anche della nostra regione e quindi abbiamo emesso quella famosa ordinanza di quarantena delle 2.30 del mattino dell'8 marzo, imitata poi da tutto il sud. Quell'ordinanza che ci ha consentito però di salvarci da più di 200 positivi che arrivarono in quei giorni. In tutto 65.000 di ritorno verso il tacco d'Italia cercando scampo, ricorda il governatore. Oggi abbiamo gli ospedali preparati, dispositivi di protezione individuale, conosciamo il nemico, c'è un addestramento generale della popolazione che si è rivelata attenta e particolarmente responsabile. Queste persone si sono segnalate in un sito della regione inserendo anche i loro contatti sospetti, ma devono continuare a farlo. Il modello coreano va realizzato adesso, la polizia darà una mano al contact tracing per andare ad individuare tutti i soggetti positivi o che hanno avuto contatti stretti con i positivi. I governatori non hanno il potere di chiudere le proprie regioni ed io per garantire la libertà di movimento non posso chiedere una regola che non sia imposta dal DPCM, ribadisce Emiliano. Quello che si può fare però è chiedere a coloro che vengono di segnalare la loro presenza e di tenere memoria dei contatti. Questa è la chiave del futuro dopo il lockdown. Mentre prima abbiamo messo in quarantena tutti, adesso dobbiamo capire come mettere immediatamente in quarantena eventuali contagiati e i loro contatti stretti. L'app Immuni serve proprio a questo e la Puglia sarà tra le prime regioni a sperimentare l'applicazione per smartphone. L'app Immuni sarà disponibile sullo store e potrà essere scaricata gratuitamente da tutti gli italiani sui propri cellulari. Più che una sperimentazione si tratterà di un test di pochi giorni, forse una settimana, per provarne la funzionalità, spiega Pierluigi Lopalco, epidemiologo a capo della Task Force pugliese per l'emergenza coronavirus. Una volta installata basterà inserire pochi dati, come il proprio comune di residenza, ed il sistema funzionerà in automatico. Saranno i cellulari su quali è presente l'app, quando si troveranno ad una distanza inferiore a un metro, a scambiarsi dei codici generati automaticamente ed in maniera anonima. Quindi, se una persona dovesse contrarre il Covid, l'asla di riferimento sbloccherà il codice, facendo partire un messaggio d'allerta su tutti i telefoni delle persone che sono venute a contatto, anche in maniera inconsapevole, col contagiato. Se sono in fila al supermercato, per esempio, spiega sempre Lopalco, e non viene rispettata la distanza di un metro, il mio smartphone scambierà un codice col telefono di chi mi è accanto. A quel punto, se il giorno dopo dovesse risultare positivo, la persona che inconsapevolmente è stata a contatto con me lo verrà a sapere. Il tutto, naturalmente, nel rispetto della privacy. Il sistema non traccerà gli spostamenti, ma solo i contatti di prossimità tra smartphone. I dati raccolti potranno essere condivisi solo con l'autorizzazione del possessore del cellulare. Tutti i dati raccolti e condivisi col server centrale saranno cancellati poi entro il prossimo dicembre.